Di primo acchito ha lasciato attoniti tutti, una notizia certamente che va oltre la cronaca e arriva nella storia. Secondo me arriva nella storia due volte, uno perché i precedenti sono naturalmente antichissimi e rarissimi, secolari, e due perché questa scelta viene fatta da un pontefice che è un grande teologo, che ha sempre messo tuttavia la teologia anche a servizio della grande tradizione, la Chiesa, e quindi è chiaro che è una scelta che ha anche il sapore di una riforma, credo di una consapevole riforma, e quindi è un gesto veramente guardato a luce della storia, della storia della Chiesa, di assoluta grandezza, questo mi è parso.